Il spartaco di Vincenzo Vela è una figura colossale. È in marmo, è alta più di due metri e pesa 13 quintali. Venne presentata l'esposizione di Brera del 1851, ma già nel 1846-47, nel corso di un viaggio a Roma, Vela aveva approntato un modello in gesso tutto resistente. In questa figura di spartaco sono riconoscibili gli studi che Vela ebbe modo di realizzare a Roma sulla scultura barocca e sulle figure michelangelesche della Cappella Sistina. Altri riferimenti molto evidenti sono le figure colossali, maschili, di Francesco Hayez, come il Sansone o la Iace. Nello spartaco tutte queste componenti ed altre ancora si fondono e danno vita ad una scultura che supera i dettami del bello accademico e neoclassico, del bello ideale, in funzione di una creazione realistica, di un nuovo e potente realismo, quasi brutale, che incarna il concetto di guerra giusta, un concetto elaborato nella seconda metà del XVIII secolo, soprattutto con Voltaire. La figura dello schiavo Trace, che è armato soltanto di pugnale e di armi rudimentali, guida alla rivolta, un manipolo di schiavi, andando incontro e scegliendo in qualche modo il proprio destino, non poteva che essere un riferimento evidente alla storia attuale, ai sanguinosi moti del 1848, ai quali lo stesso Vela, come notto, prese parte. La committenza dell'opera è dovuta al duca, collezionista e fervente patriota Antonio Litta, il quale desiderò quest'opera per la sua casa di Milano, di Corso Magenta, per il suo palazzo in Corso Magenta, dove l'opera venne collocata e rimase fino al 1872. Da allora alcuni passaggi di proprietà portarono l'opera ad approdare in Svizzera all'inizio del Novecento e attualmente si trova collocata nell'atrio del Palazzo Civico di Lugano. Il ritorno dell'opera a Milano, data anche la problematica relativa alle sue grandi dimensioni, al suo peso, costituisce un evento del tutto eccezionale e ha comportato anche l'utilizzo di strumentazioni particolari per poter movimentare l'opera in assoluta sicurezza.